salve in questo video vorrei parlare delle vicissitudini di una storia d'amore e della sua fine quando leggiamo sulle pagine di cronaca nera di omicidi e vendette le cui trame sottendono un motivo passionale come una gelosia incontrollabile o un amore cieco siamo portati a pensare che si tratti di situazioni di pure semplice follia ci rassicuriamo pensando che certamente noi o il nostro partner non saremmo capaci di lasciarci trasportare fino a quel punto da un sentimento eppure la tentazione è forte chi ha sperimentato il tormento e la passione del vero amore sa che la sua fine può dirsi l'unica esperienza da vivi della propria morte quando l'altro è talmente importante da rappresentare non una persona a sé stante ma un elemento quasi fisiologico della nostra esistenza il suo allontanamento viene vissuto a livello psichico come l'amputazione di un arto certi luoghi comuni del parlare testimoniano la veridicità di un simile stato d'animo infatti si dice sono a pezzi oppure mi hai spezzato il cuore è solo un modo di metaforizzare lo smembramento dell'anima quella carica di sentimenti un tempo condivisi e condivisibili che adesso non ha più un oggetto reale in cui incarnarsi in questi momenti viviamo l'esperienza della morte ci muoviamo tra la gente come ombre la nostra fisicità non ha più riscontro nella fisicità dell'altro gli sguardi ci attraversano e i nostri occhi vagano nel buio alla ricerca di un'immagine irraggiungibile ora per quanto la natura umana possa avvalersi di un substrato culturale ed etico che la distingue dagli animali quella che ci troviamo a vivere è in tutto e per tutto un'esperienza ai limiti della sopravvivenza e purtroppo sappiamo che quando si vanno a toccare le corde più fragili di un uomo la sua reazione può essere incontrollabile la sua reazione è irrazionale ed anche delinquenziale già che ci troviamo a vivere su un piano simbolico un'esperienza di morte e quindi la tentazione di concretizzarla può essere molto forte e lo spirito di sopravvivenza può indurci ad aggredire il partner secondo il vecchio detto mors tua vita mea come al pari degli animali se non ci si rende conto della natura puramente psichica della situazione ci si avventa sull'altro nell'intento di affermare il possesso di un territorio o di ristabilire la propria superiorità e la propria padronanza nei riguardi di una situazione che rischia di schiacciarci l'altro improvvisamente non è più l'essere amato e per cui avremmo dato la vita ma diventa il nemico che ci usurpa la vita la sua assenza e la sua autonomia dimostrano che cosa dimostrano la nostra vulnerabilità ed il fatto che non eravamo così essenziali già che qualcun altro ci sostituirà nel suo cuore in questi momenti si ragiona in termini di immediatezza e di perentorietà quello che è così adesso lo sarà per sempre la sofferenza del momento è unica e non è neanche condivisibile inoltre l'altro non sta soffrendo quanto sto soffrendo io è questo che ci diciamo e sono frazioni di secondo quelle in cui la concretizzazione degli istinti omicidi può apparire una risoluzione magica dell'angoscia non si ha alcuna preoccupazione conscia del dopo ma solo il desiderio di porre termine nell'immediato alla rabbia all'impotenza che ci dilaniano ovviamente questa è solo una soluzione illusoria tipica degli esseri inconsci che non sono in grado di comprendere e di pianificare e quindi di contestualizzare l'adempimento delle proprie pulsioni il superamento di questi stati psichici richiede una supremazia incontrastata della coscienza o se vogliamo il freddo calcolo della ragione che ci riporta ad una condizione di realtà e quindi alla consapevolezza del fatto che si tratta di uno stato transitorio destinato a scemare e che non necessariamente siamo gli unici a soffrire già che qualsiasi separazione rappresenta una perdita e un lutto tanto per chi viene lasciato quanto per chi lascia la capacità simbolica della psiche è ciò che permette in questi frangenti di ricostruirsi una vita superando il momento dell'odio e riconquistando le oasi perdute dell'amore bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video come questo se vi iscrivete verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho fondato anche una pagina chiamata la mia psicologia ho un sito che è www.robertoruga.it dove troverete altro materiale infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype la videochiamata su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al numero che troverete nella descrizione di questo video oppure potete scrivermi a r.ruga.virgilio.it per avere tutte le informazioni riguardo alla consulenza psicologica buona giornata a tutti e in bocca al lupo